ancora un atto di barbarie in sicilia un uomo con la testa mozzata a cui hanno tagliato anche le mani è accaduto nei pressi di calta girone nelle campagne è stato trovato lì e adesso gli inquirenti si chiedono perché quest'uomo è stato privato addirittura degli arti è facile pensare che questo è accaduto perché non si vuole far capire di chi è il corpo è sicuramente una esecuzione che ci ricorda tante scene che abbiamo visto in televisione gli inquirenti escludono la pista della criminalità organizzata invece pensano che sia qualcosa di personale appunto una persona che è stata uccisa di cui non si deve trovare il cadavere ma è il tipo di esecuzione la narrazione di questa esecuzione che ci ricorda un po dei momenti di fiction molto dura che vediamo costantemente in televisione un dibattito che si è aperto a livello nazionale ci sono troppe immagini crude che girano sulla rete troppo e troppe immagini invadenti che anche nelle fiction televisive ci permettono di vedere quello che nemmeno mai potevamo immaginare e su questo Beppe Severnini che dirige da qualche settimana l'inserto del Corriere della Sera ha aperto un dibattito tra due personaggi importanti l'ex PM di Mani Pulite Gerardo Colombo e Alessandro Fabri che è uno degli sceneggiatori più importanti italiani e naturalmente mentre Colombo diceva che forse stiamo esagerando perché giustamente dice Colombo è una cosa che anch'io mi sono permesso il mio piccolo di sostenere anche qualche giorno fa parlando dell'evoluzione della comunicazione mafiosa in una conferenza da una parte c'è un'attenzione particolare per narrare le gesta dell'assassino dall'altra invece non c'è la stessa attenzione per la vittima e se Gerardo Colombo dice questo dall'altra parte Alessandro Fabri invece dice no è necessario far vedere il crimine in tutti i suoi aspetti naturalmente però poi bisogna certamente dosare i valori che si possono trasmettere anche attraverso una fiction noi dove stiamo stiamo in mezzo in un paese in una società che ci propone una televisione dove addirittura ormai i canali specializzati sul crimine sono tanti e li possiamo anche vedere quotidianamente e riceviamo anche attraverso i social un numero incredibile di immagini e di notizie che riguardano appunto crimini insomma c'è da porsi dal punto di vista etico cosa è giusto fare cosa non è giusto fare una questione che può sembrare ormai passata di moda ma che invece è di grandissima attualità per esempio come raccontare come un uomo può essere stato privato della sua test e degli arti principali solo perché non bisogna far capire chi è quell'uomo che è stato ucciso insomma veramente una società dove è difficile capire come si può arrivare a questo livello di violenza e da uomini liberi ce lo chiediamo ora dopo ora